In questo spazio confronti parleremo del sistema informativo sulle professioni, in particolar modo io vi presenterò la banca dati statistica che è stata realizzata in seno al progetto da parte dell'INAIL. Spiegherò quali sono gli aspetti peculiari del sistema informativo sulle professioni e quali sono le informazioni che l'INAIL ha messo a disposizione all'interno di questo progetto molto ampio e articolato. Diciamo subito che negli anni più recenti si sta sviluppando l'idea di condividere informazioni, grandi moli di informazioni ad un numero molto ampio di utenti. Tutto questo è possibile anche grazie agli sviluppi della tecnologia moderna che agevola questo sistema di interscambio di dati. Questo approccio metodologico che parte da un denominatore comune sta alla base di un sistema che come dicevo prima è molto ampio e articolato definito come sistema informativo sulle professioni. Che cosa fa il sistema? mette a disposizione le informazioni contenute da vari enti partecipanti con l'obiettivo di ricostruire tutto il contesto sociale, economico che caratterizza il mondo del lavoro italiano e anche le professioni che vengono svolte. Ogni ente dispone di una serie di informazioni che raccoglie per finalità proprie. L'obiettivo è quello di renderle parlanti e comunicanti grazie a questo denominatore comune che è stato individuato nella classificazione delle professioni che costituisce lo standard rispetto al quale tutte le informazioni sono condivise. Questo sistema è un sistema molto dinamico sia perché nel tempo si sono allacciati diversi rapporti di collaborazione tra gli enti che dispongono appunto di informazioni sulle professioni ma è dinamico anche all'interno di ogni ente che mette a disposizione dati. Mi riferisco in particolare all'INAIL che in un primo momento ha fornito ai dati le statistiche sugli infortuni sul lavoro, in un secondo step ha fornito le malattie professionali, in un terzo step successivo, neanche un anno fa, meno di un anno fa, ha ampliato il numero di informazioni in modo da ricostruire e ampliare ancora di più e arricchire le indicazioni riguardo al fenomeno infortunistico appunto e tecnopatico. Gli enti partecipanti sono tanti, io ne ho indicato solo alcuni, diciamo i precursori rispetto ad altri che stanno man mano entrando o sono in dirittura d'arrivo. Intanto l'ISTAT che fornisce i dati sulle stime degli occupati e descrive le professioni, l'ISFOL con i fabbisogni occupazionali di medio e breve periodo, il Ministero del Lavoro con il collegamento al portale, Union Camere, MIUR, la Regione Basilicata, l'albo degli agrotecnici e così via. Tra gli enti che stanno per entrare per esempio vi è l'INPS e altre regioni. Come lo immaginiamo il sistema? Più o meno come il grafico che ho cercato di riprodurre. Il sistema si fonda sul collegamento con la classificazione delle professioni. Le informazioni sono detenute intanto sui siti web di chi li produce, che ne è gestore, ne è titolare e ne è anche responsabile. Ogni sito costituisce una porta d'accesso al sistema e sempre attraverso la classificazione delle professioni che sta appunto al centro del sistema. Cos'è la classificazione delle professioni? Diciamo che è una strutturazione e una raccolta di tutte le professioni che vengono svolte sul mercato del lavoro. Si presenta con una suddivisione in nove rami, una struttura d'albero, si parte dalle professioni più qualificate per arrivare a quelle meno qualificate e poi infine nel grande gruppo 9 le forze armate. Ognuno di questi gruppi si suddivide a sua volta in classi, categorie, fino ad arrivare alle unità professionali. In pratica si tratta di cinque livelli di dettaglio. Come esempio ho riproposto il caso delle professioni tecniche. Se noi seguissimo lo sviluppo del primo ramo e sempre del primo livello per ogni suddivisione, arriveremmo alle voci dei tecnici geologi che raccolgono una serie di professioni legate al mondo della geologia. Come sono raggruppate queste classificazioni? Rispetto a due aspetti. I livelli di competenza, quindi le responsabilità, la complessità del lavoro, i compiti svolti e rispetto al campo di competenza, quindi ciò che viene prodotto e ciò che viene utilizzato in termini di materiali e attrezzature. In questo contesto l'INEL che cosa poteva mettere a disposizione? L'INEL dispone delle statistiche sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i soli soggetti chiaramente per i quali vige l'obbligo assicurativo. Le informazioni sono molto ampie, sono variegate. Conosciamo i dati sull'infortunato e il tecnopatico, i dati dell'azienda presso la quale il soggetto si infortuna o contrae la malattia. Conosciamo l'iter con cui si verifica l'evento infortunistico tecnopatico, quindi le modalità di accadimento, le conseguenze, ma anche alcuni aspetti che caratterizzano l'anagrafica del soggetto, quindi l'età, il sesso, il paese di nascita e tra queste anche la professione. La professione infatti è una delle informazioni che viene raccolta già col modulo di denuncia di infortunio o di malattia professionale. La banca dati che abbiamo messo a disposizione presenta come base dati il triennio è attualmente 2012-2014. Sotto l'input di questo progetto l'INAIL ha deciso di adottare per individuare la professione l'ACP, quindi la classificazione delle professioni, a partire da marzo del 2013. Per i periodi precedenti veniva classificata la professione sulla base di un manzionario che era costituito facendo riferimento ad un'ottica completamente diversa perché non andava a vedere il livello di competenza del soggetto ma più che altro il rischio occorso nel momento in cui veniva svolta la lavorazione. Quindi c'erano delle professioni molto specifiche, il muratore, l'infermiere, la babysitter e così via e altre più generiche tipo il venditore o l'addetto alle attività operative. Diciamo che la logica che sottende le due classificazioni quindi è molto diversa perché il livello dell'INAIL è più dettagliato in quanto descrive le singole voci professionali in alcuni casi, mentre è meno dettagliato per alcune professioni. Per esempio per i medici a noi non interessa conoscere nello specifico la specializzazione ma vedendolo in un'ottica di rischio distinguere quali sono i medici esposti a radiazioni ionizzanti dal resto degli altri medici perché hanno una gestione differente e quindi anche un premio legato al rischio pagato in maniera differente. Quali dati fornire? Nel primo rilascio che risale ormai a 5-6 anni fa noi decidemmo di fornire le statistiche sugli infortuni denunciati. Questi presentavano però una percentuale intorno al 15-20% di eventi per i quali la manzone non era indicata. Per cui decidemmo di passare agli eventi cosiddetti definiti positivi cioè quelli riconosciuti dall'INAIL per i quali la manzone è indeterminata in una percentuale veramente risoria siamo sotto l'1% anche perché in quel caso essendo definiti come infortuni siamo in grado di avere delle informazioni molto complete sul fenomeno e quindi in grado di riempire tutti i campi che riguardano il singolo evento. Di quali dati parliamo? Sono circa 450.000 infortuni sul lavoro definiti positivi e di circa 22.000 malattie professionali ogni anno. Per consentire l'accesso dei dati dell'INAIL a sistema occorreva effettuare una normalizzazione degli stessi dati attraverso due procedimenti. Una prima imputazione di tipo deterministico attraverso una tabella di raccordo che è stata costruita grazie all'aiuto dell'ISTAT e successivamente attraverso un'imputazione di tipo probabilistico per quelle professioni che non erano note o che non erano presenti nella classificazione delle professioni. Diciamo che la base dati intanto è stata selezionata perché sono stati, chiaramente l'INAIL non assicura le forze armate quindi con riferimento a quel sottogruppo non forniamo informazioni e l'INAIL però assicura gli studenti che sono stati scremati dalla base dati perché lo studente non rientra tra le professioni della CP. Il raccordo è stato molto complesso ha richiesto quasi un anno di lavoro nella realizzazione della tabella perché vi erano delle professioni generiche tipo il fornaiolo che potevano essere collocati in corrispondenza della CP su più livelli perché il fornaiolo per noi può essere sia colui che sta davanti al forno il panificatore sia chi magari lavora nell'industria dei metalli pesanti quindi utilizzando altre informazioni come il codice di tariffa il settore di attività economica eravamo in grado di realizzare una tabella di dettaglio che non aveva la presunzione di arrivare al quinto digit ma che si fermava a livelli più elevati per alcune professioni tipo i dirigenti per i quali non si conosceva bene l'ambito di competenza sono rimaste escluse da questa tabella di raccolta circa un 1% di qualifiche professionali ve ne cito alcune presenti nel nostro manzionario perché assicurate all'INAIL lo sportivano un professionista il misuratore lo zigrinatore il dirigente amministrativo per questi casi e per quei pochissimi casi in cui la professione non era indicata abbiamo effettuato un passaggio successivo di imputazione probabilistica abbiamo preso in esame il bacino dei casi in cui la CP era assegnata e attraverso un'imputazione appunto di tipo casuale è stata determinata ed associata la CP ai singoli record l'obiettivo che ci siamo posti però era quello di non far variare molto la distribuzione perché ci siamo accorti che nel primo rilascio vi erano delle categorie dei raggruppamenti come il gruppo 6 degli artigiani che aveva proprio dei veri e propri scaloni tra quanto osservato e quanto imputato abbiamo posto un limite cioè la soglia del 10% di incremento massimo del valore della voce o unità professionale nel momento in cui i dati erano imputati questo per renderla quanto più reale possibile e corretta possibile in questo modo i dati una volta lavorati questo procedimento di imputazione probabilistica viene adottato attualmente anche col passaggio alla CP perché resta una quantità dello 0,2-0,3% di casi che la professione anche quando l'evento è definito positivo non è nota per questi casi si procede alla stessa maniera stavo dicendo che i dati una volta lavorati possono entrare a far parte del sistema informativo sulle professioni l'Inail ha realizzato in questo modo una banca dati che ha un forte contenuto di tipo prevenzionale perché conoscere le modalità di accadimento degli eventi degli infortuni conoscere le principali tecnopatie rappresenta uno strumento di indirizzo utile per tutti coloro che sono interessati al sistema quindi gli organi di vigilanza i medici i datori di lavoro ma anche il semplice cittadino che ha modo di vedere qual è il rischio associato alla professione in questo modo si possono orientare le politiche atte a migliorare la qualità di vita lavorativa a predisporre dei dispositivi di sicurezza adeguati tali da ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico come si presenta? Ho preparato delle slide per accelerare diciamo i tempi si va sul portale dell'Inail in questo caso si vede la strutturazione della CP della classificazione delle professioni che si può diciamo drillare fino al massimo livello di dettaglio qui ho riportato di nuovo il quinto digit dei tecnici geologi dove sono tutte le professioni affini nell'ambito di questa sezione in corrispondenza della R si può chiaramente andare ad analizzare la statistica fornita dall'Inail per ora il sistema è parlante col SIP solo all'ultimo livello di dettaglio infatti uno degli obiettivi futuri sarebbe quello di poter rendere parlanti i dati dell'Inail che sono forniti ad ogni livello anche con i relativi dati del sistema non so se leggete bene ma da qua si possono vedere sia i dati dell'Istat dell'ISPOL l'offerta formativa del MIUR si può accedere al portale quindi andare sulla sezione clic lavoro del ministero se clicco sui dati dell'Istat mi compare la pagina web adesso dedicata quindi posso vedere non solo gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali associate ma anche come si distribuiscono i dati sugli occupati posso vedere per esempio che i tecnici geologi sono prevalentemente maschi rispetto al totale degli occupati che sono meno giovani rispetto al totale degli occupati quindi una serie di informazioni molto utili per ricostruire appunto il patrimonio relativo al contesto sociale ed economico del lavoro quando vado sul sito dell'Istat chiaramente ritrovo nella sezione dedicata al SIP i dati sull'incidentalità quindi posso ritornare nuovamente ai dati della nostra banca dati come si presenta abbiamo una serie di linguette che sono state arricchite con gli anni perché chiaramente forniamo i dati sugli infortuni messi sempre in collegamento diretto con il livello superiore in questo caso avendo presentato il grande gruppo 3 ci sono i dati relativi al totale degli infortuni occorsi sul lavoro diamo indicazioni non solo del numero assoluto ma anche dei casi avvenuti in itinere che sono notoriamente trasversali diciamo rispetto al rischio dei casi mortali e di quelli mortali in itinere poi abbiamo pensato di fornire altre informazioni che riguardavano appunto la collocazione territoriale l'età il sesso le conseguenze dell'infortunio con i postumi ma anche con la natura della lesione e la sede della lesione colpita e poi un'altra informazione di caratteri diciamo anagrafica che è il luogo di nascita del lavoratore non vi presento per il poco tempo a disposizione tutte le diciamo le variabili mi preme far vedere quali sono il tipo di informazioni e qual è il contenuto informativo che può dare al sistema questa slide presente i dati per distribuzioni per classi di età possiamo vedere che la distribuzione è sostanzialmente simile a quella del totale dei lavoratori per quanto riguarda invece i postumi vediamo che l'84,3% degli infortuni avviene in assenza di menomazione per quanto riguarda le professioni tecniche contro l'81,4% del totale della popolazione e dei lavoratori chiaramente quelli con esito mortale sono lo 0,1% contro lo 0,2% del totale degli infortunati anche andando a vedere la natura della lesione notiamo per esempio che le lussazioni le distorsioni e le distrazioni rappresentano la prima causa e quindi hanno una percentuale abbastanza elevata del 41% mentre su tutte le professioni questa percentuale del 29,7% prevale la contusione se analizziamo per esempio le lesioni da sforzo vediamo che rappresentano il 2,6% per i tecnici geologi rappresentano invece l'1,9% per tutte le professioni passo velocemente ad analizzare anche il contenuto informativo messo a disposizione per quanto riguarda le malattie professionali anche in questo caso diamo contezza della distribuzione sul territorio delle caratteristiche socionografiche quindi sesso età e luogo di nascita ma in questo caso diamo anche informazione sul tipo di patologia quindi sulle malattie professionali anche in questo caso per esempio facendo il confronto si può vedere che prevale come malattia professionale quella da sovraccarico biomeccanico che rappresenta il 55% e che rappresenta la prima diciamo patologia anche per il resto delle professioni ma magari vedendo anche questi dati abbiamo un'informazione in più perché possiamo vedere che i tumori rappresentano circa il 10% nei tecnici geologi nelle professioni tecniche mentre sono intorno al 5% per quanto riguarda il totale delle professioni questo dato ritrova riscontro anche quando andiamo ad analizzare i casi mortali perché la percentuale di casi mortali si aggira intorno al 5-6% contro il 2-3% di tutte le professioni io ho fatto una carrellata molto veloce ma l'obiettivo era quello di mostrare più che altro le potenzialità del sistema quali sono gli obiettivi futuri diciamo che il lavoro è servito a tutti gli attori del progetto perché attraverso il nostro manzionario anche la classificazione delle professioni si è arricchita di quelle professioni che non erano manzioni che non erano indicate l'Inel si propone come prossimi obiettivi quelli di implementare il patrimonio informativo anche attraverso ulteriori variabili che possono arricchire le informazioni messe a disposizione altro obiettivo sul quale stiamo lavorando è l'inserimento delle schede di rischio e l'analisi dei cicli produttivi con l'obiettivo sempre di ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali e di dare degli input positivi a tutti gli organi soggetti alla vigilanza o che si occupano di prevenzione io ho finito lascerei la parola al mio collega Alessandro Capezzoli dell'Istat grazie grazie delina hai detto praticamente tutta la parte che mi ha fatto come no 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 volentieri hai detto sono contento per questo perché io mi concentrerò soltanto sugli aspetti tecnologici che hanno portato hanno fatto crescere il sistema informativo sulle professioni e poi sono la base anche degli sviluppi futuri in realtà quando parlo mi capita di parlare di dati uso sempre un aforisma di George Bernard Shaw e questa slide George Bernard Shaw diceva se tu hai una mela e ti ho una mela e ce la scambiamo allora tu e ti abbiamo sempre una mela per uno ma se tu hai un'idea e io un'idea e ce le scambiamo allora abbiamo entrambi due idee io nel contesto dell'open data aggiungo un'altra cosa che se tu hai un dato io ho un dato e ce li scambiamo tutti hanno due dati perché tutti hanno due dati perché nel caso delle istituzioni dei produttori di statistica ufficiale che sono chiamati oltre a condividere i dati attraverso tutto il gran parlare che si fa di open data anche a trasformare i dati che rilevano attraverso archivi amministrativi o indagini in conoscenza in descrizione dei fenomeni quindi diciamo che se le istituzioni si scambiano i dati avviene che tutti hanno conoscenza l'idea del sistema informativo professioni nasce diciamo abbastanza da lontano prendendo appunto i cardini del www del web questo signore che è Tim Berners-Lee poco prima del 1990 si recò in visita ad un centro di ricerca italiano del centro dell'INFN che aveva un palazzetto su tre piani e notò che i ricercatori di questo centro per evitare di fare la fatica di salire da un piano all'altro di scendere che cosa fecero? fecero un sistemino per condividere i documenti Tim Berners-Lee tornò al CERN e si mise a studiare la cosa in modo un po' più strutturato e quindi gettò le basi di quello che conosciamo tutti il www il www sostanzialmente immaginate lui all'epoca lo chiamò World Wide Web cioè ragnatela mondiale parliamo nell'86 l'Italia si è connessa a internet insieme ad altre quattro nazioni per cui nel 90 c'erano pochi computer pochi server collegati in rete lui già pensava in grande e ha pensato in grande anche con le basi del www che sono sostanzialmente tre l'HTTP la URL e l'HTML allora l'HTTP che molto spesso viene mascherato dai browser in realtà è fondamentale per tutte le comunicazioni client server che avvengono sul web è il protocollo a livello applicativo che è stato proprio creato ad hoc per questo la URL siccome sul web ogni cosa è considerata una risorsa una pagina web un'immagine un video è tutto considerato una risorsa raggiungibile attraverso una URL che ha più o meno in maniera più o meno complessa insomma questa struttura qui negli ultimi anni anche i dati vengono considerati una risorsa sono una risorsa in tutti i sensi sono una ricchezza per gli sviluppatori di app ma sono anche una risorsa intesa con la terminologia del web e poi c'è l'HTML l'HTML è il linguaggio che ha permesso l'esplosione del web perché diciamo che anche più o meno uno smanettone all'epoca riusciva a creare delle pagine statiche qual è stata la grande rivoluzione? la grande rivoluzione è stato il concetto di link associato alla URL e associato alla risorsa questa è una pagina banalissima però è quello che avveniva nei primi anni 90 un utente stava su una pagina A e cliccava sul link per andare su una pagina B e questo è il tag che consente ancora il collegamento tra il link sostanzialmente una sorta di uovo di colombo il link che sembra un concetto vecchio in realtà è quanto di più attuale ci possa essere perché questa è una ricerca fatta qualche giorno fa io cerco un qualcosa su Google lo usiamo tutti i giorni Google in realtà quello che Google mi restituisce è un insieme di link banalmente Facebook stessa cosa cioè Facebook è sostanzialmente un contenitore di link che ha trasformato anche i rapporti sociali attraverso il link cioè le amicizie le immagini gli eventi sono tutti considerati link sostanzialmente è quanto di più attuale ci possa essere il problema però di associare il link al dato è relativo alla semantica cioè i link non sono messi in relazione tra loro non hanno una semantica di fondo non sono pensati per questo e allora che cosa è accaduto negli anni che l'informazione è aumentata vertiginosamente è aumentata fino al punto da essere difficilmente raggiungibile se immaginate all of the information cioè tutta l'informazione quella che serve a me quella che serve a me è sostanzialmente un puntino e dati che mi servono spesso a maggior ragione se sono collegati tra loro sarebbe come cercarli in un'immensa torre piena di libri in cui individuare due volumi senza nessun tipo di indicazione cioè un'impresa titanica sostanzialmente allora quello che si è creato nel corso degli anni che si è pensato di dare una strutturazione al link una semantica cioè costruirli in un linguaggio attorno che in termini tecnici si chiama ontologia per cui qua potete vedere per esempio un concetto basilare di ontologia è la crema è la base di ogni tipo di gelato se io aggiungo una coppetta alla crema faccio la coppetta alla crema se aggiungo un'altra sofisticazione faccio la banana split per esempio oppure posso fare un frullato quindi il concetto è si dà una struttura al link per fare in modo che i link parlino fra loro è alla base del sistema informativo professioni questo concetto noi siamo abbastanza contenti di averlo introdotto nel 2005 ora vi faccio vedere questa cosa qui questa è la serializzazione di un concetto Calvino autore delle città invisibili questo concetto attraverso un'ontologia cioè la strutturazione di una frase in un soggetto un predicato è un oggetto associato a una url tradotta in un linguaggio macchina consente di rappresentare qualsiasi tipo di concetto sul web e noi questa cosa ci è piaciuta tanto perché adesso la vediamo riproposta da tantissimi soggetti qua prendo in prestito una frase di Aldo Fabrizi scritta in un libretto ci avete fatto caso che se è una cosa che non ci avevate fatto mai caso che ci fanno fa caso poi ci fate sempre caso fateci caso perché perché quella stringa che voi avete visto un po' complicata in realtà Google la usa tutti i giorni io qui cerco Andrea Camilleri mi compaiono i risultati della ricerca sotto forma di link poi mi compare un box in cui ci sono tutte informazioni connesse ad Andrea Camilleri quindi Montalbano Pirandello Porto Empedocle che però non sono esattamente la stringa che io ho inserito sono informazioni collegate stessa cosa cerco DeAndrea mi compare addirittura il link per andare a sentire la musica di DeAndrea quindi mi compare Bocca di Rosa YouTube Spotify Creosa De Ma una potenzialità grandiosa e Google che cosa fa per prevedere le domande che si può fare un utente utilizza quello che nella tecnica giornalistica si chiama la tecnica delle 5 W a chi cosa quando dove come pochi forse sanno che queste 5 regole derivano dai principi per la valutazione dell'azione morale di Santo Maso d'Aquino il quale per valutare un peccato pretendeva che si chiedesse al peccatore chi che cosa quando dove perché quanto in che modo e con quali mezzi e poi veniva fatta una valutazione sostanzialmente qui c'è un bambino che ruba la marmellata e quindi chi ha rubato che cosa ha rubato ma parallelamente c'è il riferimento al dato chi cerca i dati che cosa cerca che cosa cerca quando li cerca dove perché li cerca quanti in che modo e con quali mezzi immaginate i servizi di geolocalizzazione i servizi di geolocalizzazione quando voi cercate fornaio e vi riportano i risultati dei fornai vicino a casa vostra è proprio la risposta alla domanda dove l'utente cerca i dati e come col tablet col pc e chi è l'utente che li cerca quindi risponde esattamente a queste domande noi con un po' d'orgoglio diciamo che a questa cosa ci avevamo pensato in qualche modo in modo forse meno grandioso di google che poi ha creato schema.org ma insomma diciamo che all'epoca non c'era quasi nulla però insieme ad Isfol ci siamo posti un problema abbastanza semplice all'apparenza colleghiamo i dati di Istat con Isfol e poi è venuto anche fuori email allora come colleghiamo i dati di Istat Isfol e email utilizziamo il concetto di ontologia e quindi prendiamo la nostra crema e la cp 2011 come ha detto fortunatamente in modo approfondito Adelina perché sennò avrei perso tutto il tempo lì e abbiamo fatto questa cosa qui abbiamo creato un box sostanzialmente identica a quello che propone ora google che ha un'ontologia e quindi dice il fisico per esempio quali conoscenze deve avere l'oggetto è l'indagine sulle professioni e il link mi rimanda direttamente a quell'informazione a quella risorsa cioè quei dati che espone l'Isfol sono una risorsa sostanzialmente identificata dalla url e questo oggetto qui con un po' di studi abbiamo pensato di includerlo nei siti dei vari soggetti che espongono le informazioni sulle professioni attraverso un concetto molto semplice che è lo stesso della condivisione dei video di youtube per esempio su facebook con copia e incolla in sostanza questo è quello che è avvenuto fino ad oggi poi c'è il futuro il futuro ce lo da sempre il web il www l'http l'html e la url e il concetto di risorsa che sono una fonte inesauribile di ispirazione perché hanno cambiato negli ultimi 4-5 anni completamente il modo di vedere i dati intanto la produzione di dati è aumentata vertiginosamente e c'è stato anche un orientamento verso l'open data massiccio noi usiamo sempre dire che i dati si chiamano così perché devono essere dati altrimenti si sarebbero chiamati tenuti e questo le istituzioni l'hanno capito l'hanno capito al punto che ci si pone il problema adesso di come collegare i dati e come raccoglierli allora fino a qualche tempo fa diciamo che la cosa che si usava principalmente era lo standard SOA che è abbastanza macchinoso da utilizzare negli ultimi anni grazie anche a facebook ad amazon a tutti questi grandi colossi si è cercato di usare in modo più approfondito l'http e l'http consente cose stratosferiche quindi sono nate le API API è l'acronimo di application programming interface e sono sostanzialmente dei programmi che si pongono tra il server e l'utente REST REST è alla base di questo modello sostanzialmente non è un'architettura non uno standard ma è un insieme di linee guida che consentono di creare un'architettura di sistema per lo scambio dati e l'interrogazione dei dati ci sono vari principi il primo in assoluto è che ogni risorsa sul web è identificata da una URL poi ci sono i principi CRUD i principi CRUD che è l'acronimo di create read update delete sono sostanzialmente dei principi che consentono di fare delle operazioni che probabilmente conoscete sotto un'altra forma l'SQL l'insert la select l'update e il delete però qual è la potenzialità che io non devo conoscere la base dati se faccio questa operazione attraverso l'HTP e non le deve conoscere le basi dati nemmeno un utente supponiamo Enail che voglia conferire dei dati ad Istat ad Enail basta usare l'HTP con una certa logica più o meno concordata ma in modo molto più immediato che conoscere una base dati relazionale complessa e questo è uno schema abbastanza banale della differenza tra REST che vedete crea un sistema ordinato di consultazione dei dati per diverse basi dati e un qualcosa senza REST che è un insieme di connessioni infinite e disordinate REST ci dà la possibilità di fare un passo avanti notevole di vedere il dato non solo come una sorta di coppia chiave valore ma come servizio immaginiamo il monitoraggio ambientale che varia ogni minuto il monitoraggio dei dati ambientali prevede che il dato sia un servizio che non sia una pubblicazione buttata all'asso un sito web o da scaricare in modalità csv deve essere costantemente aggiornato e come l'idea nostra per il futuro è di far evolvere quello che attualmente è il sistema nazionale delle professioni con la logica del widget e la logica di google che comunque rimarrà nel tempo perché è una logica che aiuta molto i soggetti più deboli tra virgolette quelli che non riescono in qualche modo a fare uno scambio dati in modo strutturato per mancanza di fondi per mancanza di informatici però in realtà la nostra idea è di usare REST pesantemente pesantemente per fare un sistema nazionale delle professioni in cui i dati possano confluire e quindi qua vedete schematizzato per esempio l'inps l'istat o l'inail che possono fare una delete una post un update e il tutto viene restituito in modalità get e standardizzato io qui ho usato lo standard json stat ma ci può essere qualsiasi altro standard quindi sdmx ddi o qualsiasi altra cosa che ci venga in mente e la domanda è poiché il sistema sulle professioni fa parte del sistema nazionale sul lavoro perché non generalizzare ancora di più e fare in modo che le istituzioni che utilizzano quello che noi abbiamo chiamato data startup invece di conferire solo i dati sulle professioni conferiscano anche tutti i dati sul mercato del lavoro a quel punto ci piacerebbe molto creare un sistema per la visualizzazione per esempio degli andamenti occupazionali si può fare abbiamo tutti i mezzi e gli strumenti abbiamo iniziato a fare una sperimentazione con ISFOL su questo che ci sta dando grosse soddisfazioni quindi data startup proprio perché funziona bene abbiamo l'obiettivo di ingrandirlo sostanzialmente e qual è il concetto che sta alla base della raccolta dei dati noi andiamo un po' in controtendenza rispetto a quello che si sta facendo attualmente non standardizziamo anzi deframmentiamo il dato perché obbligare le istituzioni a standardizzare il dato in qualsiasi formato obbliga chi più chi meno a fare uno sforzo enorme a fare il mapping dei dati che hanno basi dati relazionali diversi data warehouse completamente diversi uno all'opposto dell'altro investimenti notevoli in termini di tempo allora abbiamo detto vabbè il dato sostanzialmente e un'idea ce la fornisce il modello key values dei database no sql un dato che cos'è? è una coppia chiave valore variabile a uguale 10 e un metadato che cos'è? è variabile b uguale cittadinanza per esempio quindi il modello key value ci piace molto ci piace molto perché ci consente di destrutturare il dato invece di obbligare i partner a strutturarlo e a standardizzarlo per acquisirlo in modo più veloce non ci stiamo inventando nulla Amazon lo fa già da anni quando fate una ricerca su Amazon Amazon utilizza un concetto di destrutturazione del dato perché non potrebbe far altro cioè Amazon ha una varietà di prodotti e di dati descritti in modi completamente diversi per cui fa questo utilizza basi dati Cassandra ma anche altre basi dati orientate a documenti e tratta mole di dati enormi immaginate il censimento della popolazione parliamo di 70 milioni di record guardate i numeri che sono scritti qui qua parliamo di un miliardo di record e questo è un grafico vecchio quindi con che tempi di risposta? tempi di risposta velocissimi quando cercate un prodotto su Amazon il risultato è immediato non ci mette troppo tempo perché? perché destrutturando il dato e usando tutti gli strumenti moderni che purtroppo le istituzioni fanno fatica a recepire cioè purtroppo i colossi stanno sempre avanti e quindi elasticsearch per esempio un sistema di ricerca veloce che si basa su JSON e si basa su database no SQL per evitare di appesantire i tempi di risposta attraverso le relazioni esiste lo fanno lo possiamo fare anche noi nell'ottica del sistema professioni e del sistema nazionale sul lavoro e poi ad UPP per esempio molti conosceranno il sistema di data mining e data analysis e basta niente ho finito così volevo fare un'ultima mail simpatica ma la collega che mi ha aiutato devo dire è stata preziosissima Emanuela mi ha bocciato avevo messo però ve la racconto avevo messo un'immagine di un cinema in cui c'erano delle persone un po' addormentate chi è sbragato da una parte e dall'altra con sopra scritto ogni anno milioni di persone muoiono per un powerpoint aiutateci a fermare questa strage che era bellissima lascio la parola ad Adelina se vuole aggiungere qualcosa in chiusura o se ci sono domande se non che ringraziare tutti i partecipanti ringraziare anche i miei due colleghi che hanno lavorato con me insieme a questo progetto Antonella Altimari e Roberto Boscioni grazie grazie